Se il proprietario di un computer con Windows 10 la fine del supporto tuttavia si avvicina e tu non sai come fare te lo faccio vedere io. Iniziamo. Il supporto a Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025. Senza aggiornamenti di sicurezza i nostri sistemi diventeranno progressivamente più vulnerabili. Ho sentito dire da tantissimi membri della community e anche da tantissimi miei clienti che basta avere un buon antivirus oppure un buon antimalware per far fronte a questo problema. Ebbene non è assolutamente vero. C'è una differenza abissale tra un virus o un malware e delle vulnerabilità. Senza gli adeguati aggiornamenti non c'è alcuna misura che tenga. E allora noi che cosa facciamo? Di fronte a questo grido di allarme mamma Microsoft non rimane insensibile ma contemporaneamente le si allungano i canini. Infatti ci propone una cosa che si chiama ESU ovvero Extended Support Update. Si tratta di pacchetti che ci consentono di ricevere gli aggiornamenti per Windows 10 anche dopo il termine del supporto. Ma naturalmente questa cosa è a pagamento. Non è l'unica soluzione. Che cosa fa Zero Patch? Basta che tu tieni attivo questo programmino sul tuo PC e tutte quante le patch di sicurezza arriveranno in tempo di record. Per essere certi di ricevere veramente tutte le correzioni indispensabili sarebbe necessario stipulare un abbonamento che costa 25 o 35 euro. Altri due suggerimenti. Il primo riguarda la cosiddetta segmentazione della rete ovvero separare tutte quante le macchine Windows 10 rispetto alle altre macchine più aggiornate. Queste macchine Windows 10 possono rappresentare comunque dei facili punti di attacco che consentirebbero di andare a colpire anche macchine più recenti. Questa segmentazione della rete può essere fatta a livello di router oppure anche a livello di switch. Il mio consiglio da tecnico è quello di chiamare un collega nella tua zona e farti aiutare in quest'operazione non esattamente semplicissima. Ulteriore consiglio è quello di disattivare l'anteprima in Esplora File. In questo modo possiamo evitare che eventuali file infetti possano effettuare qualsiasi attività malevola per disattivare l'anteprima. Pente di ricerca. Digitare cmd, scegliere questa icona, pulsante destro e segui come amministratore. Sì, incollare questa stringa qui. Invio ed ecco fatto. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.